Ben trovati all'appuntamento con il meteo in collaborazione con il centro funzionale della protezione civile della regione Campania. Persistono condizioni di tempo perturbato sul meridione sabato e domenica. Vediamo quali sono le previsioni per sabato 13 ottobre in Campania. Cielo generalmente sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. I venti ispireranno deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi. Il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso a largo. Andiamo alle temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento. E vediamo quali sono le previsioni per domenica 14 ottobre in Campania. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso ma con aumento della nuvolosità sul Cilento e sulle zone interne dove potranno verificarsi isolate precipitazioni poco significative nella seconda parte della giornata. I venti ispireranno deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi. Il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso a largo. E per finire le temperature che saranno pressoché stazionarie. La visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose. Grazie per essere stati con noi.